Carlo Emilio Gadda avrebbe definito il rinvio della partita tra Bologna e Milan quel pasticciaccio brutto dello Stadio Dall'Ara. Siamo di fronte a una situazione limite in cui Lega Calcio ha dovuto subire una decisione veramente bizzarra presa dal sindaco di Bologna, un atteggiamento un po' indivago del Bologna che prima sembrava disponibile a giocare per recuperare in campo neutro, poi ha cambiato idea mettendo di mezzo il rispetto degli spettatori e la volontà di fare un incasso da devolvere parzialmente anche alle vittime dell'alluvione di Bologna. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza però su questa vicenda, magari eliminando tutta la parte retorica che c'è stata, quella dei tifosi della Curva del Bologna che hanno detto che non si può giocare a pochi metri da persone che hanno avuto il fango nelle case, tutte cose vere, tutte cose giuste, sarebbe interessante capire se gli esponenti della Curva del Bologna, centinaia di persone quindi andranno ad aiutare queste persone perché loro si rifiutavano di andare allo stadio per rispetto, ma il rispetto è una cosa molto bella che riguarda tutti noi, ce l'abbiamo tutti il rispetto nei confronti di chi è stato vittima di eventi climatici, dobbiamo però anche dire che poi oltre al rispetto se tu stai lì e prendi una decisione chiedendo di non disputare una manifestazione, poi devi fare qualcosa di concreto e staremo a vedere se domani saranno tutti ad aiutare, sarebbe una bellissima cosa se centinaia di persone si riunissero per questo scopo. In realtà Bologna, noi lo sappiamo, sarà invece giustamente e fortunatamente protagonista del motoshow, meglio dell'ex motoshow, che mobiliterà centinaia di migliaia di persone in una città che è tornata, fortunatamente dopo tanti problemi ha rilassato la testa e è ripartita perché Bologna questo è, è una grande città ed è una città che non ha bisogno della commiserazione di nessuno. Così come si tiene regolarmente quindi il motoshow di Bologna, ripeto, adesso ha cambiato nome, ma questo è, si parla veramente di centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo, tanto che Bologna giustamente ha pubblicato anche come raggiungere la zona del motoshow, salutiamo con piacere il fatto che il meteo di domani sarà sole e nuvole, quindi insomma oggi lo stadio di Bologna, le zone limitrofe sono perfettamente agibili, domani lo saranno ancora di più, il sindaco di Bologna ha avuto questa alzata di ingegno. Che cosa ha fatto la Lega? La Lega dice beh ma noi allora facciamo una bella cosa, giochiamo a porte chiuse e il sindaco di Bologna dice no neanche a porte chiuse. Non si capisce in base a quale ragionamento, meglio si capisce il ragionamento, un po' di retorica, probabilmente anche un po' di difficoltà del sindaco Lepore che si è fatto trovare impreparato di fronte alla situazione che si è creata giorni fa con l'alluvione e un tentativo un po' populista di metterci una pezza. Che cosa ha fatto Lega Calcio? Lega Calcio ha detto ma noi qui abbiamo un problema grosso, il problema è che abbiamo un calendario talmente fitto che non sappiamo quando recuperare questa partita. Adesso sembra che la data più probabile sia addirittura febbraio del 2025 e ha proposto conseguentemente al Bologna di dire allora facciamo una bella cosa, andiamo a giocare a Empoli o a Como. Il Bologna che in un primo tempo sembrava disponibile poi ha detto e no noi vogliamo dare una parte dell'incasso alle vittime di questi problemi e di queste alluvioni e quindi ci rifiutiamo. Di fronte al rifiuto legittimo da parte del Bologna Lega Calcio non ha potuto far altro che dire allora rinviamo la partita. Vorrei dire che se ci sono tante partite è dovuto al fatto che i club hanno chiesto a più riprese di poter ottimizzare sempre di più gli incassi e quindi più partite vuole dire più incassi, vuole dire però anche minori possibilità di recuperare in una competizione che rischia di essere davvero condizionata in maniera pesantissima da questi rinvii. Se noi dobbiamo pensare che d'ora in avanti ogni volta che ci saranno delle piogge molto intense con dei problemi pesanti ma non drammatici intorno agli impianti ci sarà sempre una curva che dirà no per rispetto oggi non giochiamo. Ecco potete pensare che un precedente di questo genere porterà a mandare in tilt completamente il campionato di Serie A. Eppure chi è che si sognerà adesso di dire no se in una situazione analoga e ripeto purtroppo ce ne sono state tante e si teme ce ne saranno ancora se ci sarà malgrado la perfetta civiltà dello stadio, malgrado la perfetta civiltà delle zone circostanti allo stadio, se ci sarà una tifoseria, un club o un sindaco che diranno no anch'io adesso per rispetto non faccio più giocare la partita. Sarà il delirio. Dopo di questo si tratta ed è una situazione che avrebbe richiesto a mio avviso maggior serietà anche da parte del Bologna. Non ci si può nascondere secondo me dietro la beneficenza che si vuole fare dando una parte dell'incasso di questa partita per rifiutarsi di giocare altrove perché sarebbe stato molto semplice e molto più serio anche dire va bene organizzeremo una partita con tutto l'incasso devoluto non una parte dell'incasso, tutto l'incasso devoluto la organizzeremo ad aprile, a maggio sarà una grande festa di sport proprio per ricordare e aiutare tutti quelli che hanno avuto dei danni da queste alluvioni. Il Bologna ha ben pensato di non farlo. Naturalmente c'è chi maliziosamente ritiene che il Bologna avesse qualche interesse a rinviare questa partita. Io non credo, non lo voglio credere, sebbene sia chiaro che a febbraio il Milan si troverebbe in una situazione difficilissima perché un recupero cadrebbe e questa naturalmente è una ipotesi e quasi anche un piccolo augurio che facciamo il Milan tra le partite di andata e di ritorno o subito prima o subito dopo delle recuperi di Champions League cioè delle squadre che non si sono qualificate tra le prime otto ma non sono finite tra le ultime otto e quindi dovranno fare gli spareggi. È evidente che in una situazione del genere con il Bologna che difficilmente vedendo anche come è la sua classifica potrebbe essere in quella parte di classifica sarebbe molto più penalizzante per il Milan Milan che oltretutto perde anche due giocatori importanti per la partita con il Napoli perché le squalifiche verranno scontate martedì. Di tutta questa vicenda che cosa rimane? Rimane l'amarezza di aver visto che su una partita di calcio che aveva tutti i crismi per essere disputata ripeto in una città che ormai si è ripresa magari alcune zone siano ancora pesantemente condizionate ma dove si sta lavorando allacremente per ritornare alla normalità in uno stadio agibile in una zona agibile in una previsione meteo assolutamente serena si è deciso comunque simbolicamente è un simbolo che non è ben chiaro a nessuno di dire no, non si gioca il sindaco ha detto no io credo che non si possa tollerare che la disputa di una partita di calcio venga determinata dalla alzata di ingegno di un sindaco anche a fronte di una situazione invece perfettamente normale e sostenibile come era quella di Bologna si è creato un precedente molto grave la Lega Calcio purtroppo non è potuto non è potuto far altro che prenderne atto perché quando si esprime in questi termini il sindaco andare contro decisioni di questo genere sarebbe stato di fatto impossibile legittimo però a mio viso è che il Milan se ne lamenti il Milan lo ha detto in maniera molto chiara ma non dobbiamo dimenticare che al di là della decisione del sindaco c'è stata una decisione del Bologna che ha deciso di non andare a giocare la partita in campo neutro e questa è stata una decisione squisitamente politica non voglio dire assolutamente opportunistica sebbene ci sia il sospetto che una parte di opportunismo ci sia anche stato ma questo probabilmente è un cattivo pensiero ma d'ora in avanti il combinato disposto di un sindaco che prende una decisione immotivata e di un club che decide di non andare a giocare la partita in campo neutro porterà di fatto al collasso la Serie A che già tanti problemi ha in questo momento di appetibilità, di interesse di anche vicinanza ai telespettatori che volevano vedere questa partita e che non ha certo bisogno di trovarsi altri all'interno club che in qualche modo giocano di sponda soprattutto quando non ce n'è ragione questa è la considerazione più amara alla fine di questo incredibile, delirante giorno in cui si è detto che è sentito di tutto si gioca, non si gioca, si gioca a Colmo, si gioca a Empoli alla fine Bologna ha detto no, non si gioca e basta è staccato la spina